Bella a tutti ragazzi, ben ritornati del vostro Joker, siamo arrivati su un nuovo video Allora ragazzi, intanto mi voglio scusare se questa sera purtroppo non ci sarà FIFA Forse questo video uscirà anche leggermente tardi, non so se faccio il tempo ma forse riuscirò a farlo uscire ai 19, non lo so Ragazzi, io sono appena tornato dall'ospedale, come ben sapete, come chi mi segue su Facebook, su Instagram ha visto che ero da ciccio Infatti questo video, diciamo, voglio un attimo aggiornarvi sulle sue condizioni Perché me lo starei chiedendo intanto, ce lo starei chiedendo veramente in tantissimi Allora, praticamente cosa è successo? E praticamente, forse qualcuno di voi lo sa, forse no Un paio di anni fa è stato operato, diciamo, a un problema che era la ragde a quella anale E era stato operato tutto quanto, quindi già lì, comunque faceva molto male e cose varie Non so chi ci soffre queste cose ma spero nessuno, ragazzi, perché è qualcosa di atroce E era stato operato, quindi tutto a posto e passa così Purtroppo il 23, se non sbaglio, il 23 dicembre O il 22, se non sbaglio, o una cosa del genere 23, 22, 22, 23 Praticamente mi sono riniziati un po' di dolori e cose varie Uno pensava appunto che potrebbe essere di nuovo una ragde a cose varie Infatti, convinti di questo, noi diciamo, siamo andati all'ospedale E hanno fatto delle visite a cose varie E avevano detto, sì, era un'altra ragde a cose varie Invece, in realtà, non era così Praticamente gli è venuto un ascesso lì, purtroppo, vicino all'ano Ed è qualcosa veramente di assurdo, è molto doloroso Infatti, ragazzi, diciamo che non sta per niente bene E comunque fa molto male Però, purtroppo non può essere neanche operato adesso Perché comunque dobbiamo aspettare che questo problema, diciamo, si evolva ancora di più Che diventa un po' più matura come cosa E possono procedere con operazioni Perché, purtroppo, così non possono fare nulla Gli stanno andando solamente le farmaci un po' per il dolore Un po' per farlo addormentare, cose varie Perché non riesce proprio a muoversi Infatti, come state vedendo, ragazzi Non sta neanche pubblicando nulla Né su Facebook, né su Instagram Non sta caricando nessun video Molto, infatti, ho deciso di fare questo io Perché molti si stanno chiedendo Ma cosa è successo, cosa è successo E vorrei, diciamo, dirvi più o meno Quelle poche cose che posso dirvi Volevo, vorrei dire A meno anche così Anche voi un po' vi tranquillizzate Perché comunque diciamo Perché sarà l'ospedale che è successo Quindi, niente Stiamo aspettando che questo problema, diciamo Pare bruttino Ma deve aumentare In modo che così possono operarlo senza problemi Infatti anche lui mi ha detto Non vede l'ora di essere operato Così almeno si leva questo proprio peso Perché non ce la fa più Comunque Diciamo Ragazzi Io l'ho sentito Si scusa se non riesce a Diciamo a caricare i video Cose varie Però Capito, regà Non ce la fa proprio Infatti comunque Vi penso sempre Perché comunque mi ha detto Guarda, salutami tutti quanti Se fai un video Saluta tutti quanti Dieni che sto bene Non si preoccupassero Qua e là Quindi, regà Vi saluta tutti A tutti proprio quanti Quindi, ragazzi Vi saluta proprio a tutti quanti Vi mando un grandissimo abbraccio a tutti Non preoccupatevi Infatti vi fa tantissimi auguroni Di buon anno Quindi mi raccomando Passatelo al meglio Regà Non fate cavolate Io quello che Diciamo Voglio dire io Forza Ciccio Mi raccomando Mi dispiace vedrò così Perché purtroppo È dal Dal 22 Che sta male Non si è goduto Nelle feste Natalizie Non si è goduto Purtroppo neanche Un milione di iscritti Quando hai raggiunto Un milione di iscritti E purtroppo Non si è riusciti Neanche a godere Neanche quelli Quindi È brutta Regà A me Poi sapete Comunque avere un fratello L'ospedale Non è una cosa bella Scusate E niente Io pure ragazzi Sto cercando di farmi forza Perché poi Per chi un po' mi segue Sa che comunque A me mi ha preso Un'infezione alla gamba Stiamo cercando Di vedere Se deriva dal tatuaggio Che mi sono fatto Per mia colpa Nel senso che Forse Non me lo sono curato Come dovevo Non ci sono A stare attento Come dovevo essere Stare attento Durante la fase di guarigione E purtroppo Forse mi vuole Un'infezione Però i medici Dicono che Non è di peso Dal tatuaggio Ma potrebbe essere Di peso Da un'altra cosa Stiamo cercando di risolvi Io pure Voi non vi ho detto niente Ma sono sotto antibiotici Da già ormai Dal 21 Dal 22 Ragazzi Pure io Non vi ho detto niente Perché ho detto Vabbè forse mi passerà Invece non dovevo andare All'ospedale Perché comunque La gamba Mi si gonfia tanto Così Mi spurga Purtroppo Pusso e sangue Ragazzi Sono fatto schifo dirlo Però Io lo sapete Voglio tenervi informati Un po' su quello Che sta accadendo Anche perché l'avete visto Me lo state chiedendo Quindi niente Ragazzi Che dire Io Questo io Ve l'ho fatto Per comunque Farvi sapere Cosa sta succedendo A ciccio In più Purtroppo Mi ci sono messo Anch'io un po' Con alcuni problemini Con la gamba Ma Diciamo che Il mio problema Ragazzi Qua Tuttora Non mi preoccupa Nel senso che Potrebbe essere Proprio una cavolata Speriamo che sia così Mi farò delle punture E altre cose Per cercare di guarire Ma quello che mi preoccupa Cioè Nega non mi preoccupa Quello che voglio io E che comunque Ciccio si riprenda Al più presto Quindi ragazzi Io Scriviamo qua sotto un hashtag Forza Ciccio Siamo contenti Vi raccomando Fatelo tutti quanti Ricambino Condividete questo video Perché voglio che Lo guardino Anche i fan di Ciccio Quindi Stiamo di tutti vicino Anzi Vi ringrazio a tutti Per il supporto Che gli stai dando Perché comunque Lui ogni tanto Va su Instagram E guarda Quello che Comunque gli scrivete Oppure Le foto che metto io E tutti Gli dicono Grande Ciccio Ce la puoi fare tranquilla Quindi ragazzi Io Da Da youtuber Ma da fratello Vi ringrazio Perché gli state Veramente dando Un grande supporto Siete veramente Unici Perché comunque Alla fine Voi dire Si sta male Ok Però in tanti Vedo che comunque C'è tantissimo Quindi Per lui Sta cosa è molto positiva Io ovviamente Vi ringrazio Di cuore a tutti Vi voglio augurare Un grandissimo Un grandissimo Buon anno a tutti Speriamo di passarlo A milioni dei modi Noi purtroppo Saremo così Ma non vi preoccupate Ragazzi Non vi preoccupate Perché sappiamo tutti Che Ciccio è forte Quindi state tranquilli Spero che si opererà Il più presto possibile Anche lui non vedo l'ora Di operarsi Così almeno si dava Questo peso Io ragazzi Per la gamba Cercherò di Farci attenzione Guarirla Nel miglior modo possibile E niente Ragazzi L'unica cosa che voglio dirvi È una cosa molto importante Mi raccomando Visto che oggi È l'ultimo dell'anno Diciamo E come Ogni tradizione vuole Si fanno i botti Ragazzi Quello che vi voglio dire Io è Mi raccomando Usate il cervello Anche perché I fuochi d'artificio Non si scherza Tutti voi Avete sentito i problemi Che si creano Con i fuochi d'artificio Cazzate vari Quindi mi raccomando Usate il cervello Ragazzi Se siete troppo piccoli Non lo fate Fatelo con un genitore Vicino Mi raccomando Non fate Cavolate ragazzi Usate il cervello Mi raccomando Perché potrebbe essere Una piccola distrazione Potrebbe succedere Quello che non dovrebbe succedere Quindi Ve lo chiedo per favore Fate attenzione a queste cose Ragazzi Perché è molto importante E niente Vi voglio augurare Un felice 2016 a tutti Ragazzi A gennaio Ripartiremo più forti che mai Da domani Si riparterà più cari che mai Infatti Oggi dove ascire FIFA Però purtroppo Non sono riuscito a farlo Per mancanza di tempo E domani Voglio iniziare Proprio con una nuova serie Appunto su FIFA Che già volevo portarvi Da un po' di tempo Quindi Da 2016 Ragazzi Si partirà veramente Con la quarta Ragazzi In quinta E niente Ragazzi Mi raccomando Comunque vi darò aggiornati Sempre su Ciccio Non vi preoccupate Se mai Seguitemi sulla pagina Facebook Instagram Che lì Metterò tutte le informazioni O foto O cose varie Se riesco La prossima volta Vi farò una foto con Ciccio E la posterò Su Instagram Oggi non se la sentiva Di farla Perché sta veramente Messo male Quindi ragazzi Niente Vi ringrazio Di cuore a tutti Da fratello Da amico Da quello che prepara a voi Grazie mille Questo signore Ci sta retandosi A Mega Ciccio Mi raccomando Non fate cavolati Tanti auguroni Di buon anno A tutti Sto 2015 Ci sono tolte Le palle Però è stato molto pieno Di emozioni Questo 2015 Raggiungimento Di 500 mila Raggiungimento Di un milione Di Ciccio Tante belle soddisfazioni Tanti anche incazzature Che purtroppo ho preso Per vari problemi De gente che è rosica Cose varie Però ci sta È un 2015 Stato pieno di cose Solo siamo torti Da coglioni E a breve Inizieremo domani Più carichi che mai Con questo 2016 Tanti auguroni ancora a tutti Di buon anno Ve l'avrò detto Migliardo di volte Ma vi voglio bene Noi ci vediamo ragazzi Mi raccomando Forza Ciccio Hashtag qua sotto Bella raga Se spaccavo Ciao